Angela Maffei, Zero Target X Active. Ieri il titolo regionale è a cronometro, per te è un inizio di stagione davvero molto bello, ti aspettavi questa vittoria? Mi aspettavo sicuramente questa vittoria, sapevo che non andavo male in cronometro però sicuramente non da vincere e ieri è arrivata, sono molto soddisfatta di questa vittoria. Per te è davvero una stagione positiva, quali sono i tuoi obiettivi e i programmi per il proseguo? Spero di continuare così, come è iniziata va molto bene e spero di continuare con questa forma.